Prima il dovere e poi il piacere. La regola vale anche per Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è in partenza per la Polinesia dove trascorrerà la Pasqua con il marito Fedez. Ma prima la fashion blogger ha inaugurato il nuovo ufficio milanese del brand di abbigliamento che porta il suo nome. Un party in total pink, rosa il look, rosa la torta e rosa, ovviamente, l'arredamento del nuovo ufficio, sede della Chiara Ferragni Collection. Ora per l'influencer è tempo di pensare alle ferie. Come annunciato lei stessa in un post, i Ferragni faranno un viaggio che era già stato programmato, ma poi rimandato, nel 2017 a causa della maternità di Chiara. Un viaggio che per la coppia sarà una sorta di seconda luna di miele. Leone, infatti, non viaggerà con loro, ma resterà a Milano con i nonni.